In un momento di profondo dolore, ci troviamo a darvi il triste annuncio della scomparsa di uno dei volti storici della trasmissione televisiva Forum. Prima di continuare, lascia un commento e non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare un like e attivare la campanella. Grazie. Chi non ricorda il carisma e l'integrità di Italo Ormanni, il giudice che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia giudiziaria del nostro paese. Le lacrime di Barbara Palombelli e Paolo Ciavarro testimoniano l'immensa perdita che il mondo della televisione e della giustizia sta affrontando in questo momento. Ormanni non era solo un giudice, ma un simbolo di integrità e professionalità, che ha saputo accompagnare quotidianamente i telespettatori attraverso i meandri della giustizia. Il suo ruolo nel programma Forum ha reso il suo nome familiare a milioni di persone, che hanno seguito con interesse e ammirazione i suoi interventi. Ora, con la sua scomparsa, si chiude un capitolo importante nella storia di Forum e nel cuore di tutti coloro che lo hanno seguito nel corso degli anni. Ma il suo ricordo non svanirà facilmente. Italo Ormanni sarà per sempre ricordato come un pilastro della televisione e della giustizia italiana. Grazie per essere stati con noi in questo momento difficile. A presto con un nuovo video.